Buongiorno, ben trovati Buongiorno, ben trovati Poi la fotonotizia, i professori contro la ministra, i nastrini rossi, Fedeli ci bacchetta per le parole ma non dà risposte. Ricorderete la visita del ministro dell'istruzione Fedeli due giorni fa in Abruzzo. E poi vediamo i titoli per quanto concerne l'edizione di Pescara del centro. Oggi il corteo, i sindaci a Roma in difesa dell'Abruzzo. Ovviamente ci saranno sindaci, amministratori, i cittadini di tutte le province abruzzesi. Pescara, ancora nuovo Guerino, trattative ferme, lavori al palo. E poi la marineria in piazza contro il governo, parliamo della marineria pescarese in questo caso. E poi vediamo in alto titoli che riguardano la cronaca nazionale. Mentre in basso si torna a parlare d'Abruzzo a Montesilvano, città più bella con i murales. Un giovane artista affrescherà le pareti del campo sportivo. E poi lo sport, il calcio, il Pescara. Nello specifico con l'intervista al tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, abruzzese doc, che dice non mi fido del Pescara di Zeman. Questa è la prima pagina del centro, edizione di Pescara. Possiamo andare a vedere anche le prime pagine delle altre edizioni del giornale Oggi in Edicola. Vediamo l'edizione di Chieti del centro. Eccola qui, tribunale blindato per Di Lello, parte a Vasto, il processo per il fornaio che rischia l'ergastolo. E poi a Chieti, ascensore KO, poveri disabili, prigionieri da mesi nelle case del Palazzo Ater. E poi Lanciano, appalto gradoni, rispondono 540 costruttori. Chieti nell'inchiesta sui fratelli Bellia, spunta il padrino. E poi in basso ancora Chieti, lite per una poltrona nelle CDA, case di riposo, stipendi e assistenza. Rischiano lo stop e poi si parla di università. Rettore e Capasso, il quinto candidato. Andiamo avanti, l'edizione di Teramo, sempre del centro. A Roma, la rabbia dell'Abruzzo, perché questa protesta che si eterrà oggi e di cui vi riferiremo nelle varie edizioni del nostro telegiornale, è parte, partita proprio su iniziativa degli amministratori e dei cittadini terramani. Sisma e maltempo oggi protestano in 1800 davanti a Montecitorio. E poi università, l'economia ora si studia in inglese, nuovo corso di laurea per l'Università di Teramo. E poi processo Tercas-Bis, crack di Mario, sequestrati 165 immobili. E poi la politica, abruzzo civico e PD, scende. Il grande gelo in basso a Roseto, niente soldi per il Pontile, il Comune chiede aiuto anche ai privati per sistemarlo. E poi il caso, eutanasia per l'olandese che amava Mosciano. E siamo alla prima pagina del centro dell'Aquila, forte spagnolo, un'isola verde. L'Aquila, recupero del parco e fontana luminosa, vietata alle auto. Parliamo dunque del pieno centro di L'Aquila. E poi impegno della Germania, Fabrizia, sì, al risarcimento della Merkel. Ricorderete questa tragedia, attentato in Germania dove morì questa ragazza sul Monese. Poi L'Aquila, cocaina a fiumi per la Movida, 17 indagati. Ad Avezzano, in Marsica, commercianti. Ecco le richieste per il rilancio. E poi, sempre ad Avezzano, questa notizia in chiave positiva, un gesto sicuramente da sottolineare con un giovane romeno che trova mille euro e li restituisce. Infine il calcio, parlando dell'Aquila, perché dopo giorni davvero difficili che avevano portato alla rimozione del direttore sportivo Battisti, al silenzio stampa e al congelamento di stipendi e rimborsi per lo staff tecnico, ieri sono arrivate le dimissioni del tecnico Massimo Morgia. Il nuovo allenatore è Pierfrancesco Battistini. Siamo alla prima pagina Abruzzo del Messaggero. L'Abruzzo marcia su Roma, terremoto Neve e Frane. Da Teramo e dalle altre province parte la protesta per chiedere le modifiche al decreto sisma necessarie per coprire tutti i danni ed evitare lo spopolamento. E poi Regione Appalti, un nuovo indagato per corruzione. Mentre a Pescara proseguono i lavori. Uno sguardo dal Ponte Nuovo. Vediamo in alto altri titoli. Politica, nuovo centrodestra si avvicina alla maggioranza. Arriva una delega per il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio. E poi lo sport seriale, ex Giampaolo mi aspetto un Pescara da battaglia. L'Aquila adesso è caos. Lo stavamo vedendo anche dall'edizione dell'Aquila del centro. Morgia sbatte la porta e va via Battistini. Sarà il nuovo allenatore della formazione Rosso Blu. E poi il crack di Mario, sequestri tra Teramo e Montesilvano. Mentre c'è questo articolo di spalla che abbiamo ritrovato anche sul centro. Berlino apre alla possibilità di risarcimenti per Fabrizia. E chiudiamo con la prima pagina del quotidiano La Città. Tutti a Roma. Oggi la manifestazione fino a Montecitorio. 34 pullman in partenza per la manifestazione. Poi D'Ignazio passa con D'Alfonso, delega a tempo per il cratere. Poi l'omicidio irrisolto di Tortoreto. La famiglia di Silvestre chiede giustizia. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Oggi ne dico, la possiamo andare a vedere invece i titoli dei quotidiani nazionali. Possiamo partire dal quotidiano La Repubblica. Corruzione ad altissimo livello. Questo è il titolo principale. Arrestato l'imprenditore Romeo. Manager Consip a libro paga per pilotare appalti miliardari. Si legge da Repubblica. E poi i magistrati promessi soldi al padre di Renzi. Lui replica falso. I grillini l'ex premier. Ora chiarisca. E poi la partita giudiziaria deciderà la corsa all'Eliseo. Si parla delle elezioni in Francia. E di quello che potrebbe accadere. E di quelli che sono gli scenari. Lasciamo Repubblica. Il fatto quotidiano. Arrestato Romeo. Tangente a Consip. E 30 mila euro al mese. Promessi a Babbo Renzi. Questo è il titolo principale. Gip accusa mazzetta di 100 mila euro. Per il più grande appalto d'Europa. E poi a centropagina. Cose mai viste. Il Vaticano attacca la curia. Vergognosa. Sui pedofili. Il giornale. Scandolo Consip. Papà Renzi nei guai seri. Si faceva promettere soldi. Proseguiamo. Il messaggero. L'arresto che scuote la politica. In manette. L'imprenditore Alfredo Romeo. Dirigente Consip. Confessa. Pagava per gli appalti. Promessi i favori a Tiziano Renzi. La replica. Mai chiesti. Ne presi soldi. La rete. Dei politici. Amici. E poi un richiamo di calcio. Perché la Lazio si prende il primo round. Roma mai in partita. Pesante 2 a 0 per i bianco celesti. Nella gara di andata di Coppa Italia. Gara giocata ieri sera all'Olimpico. Fra i protagonisti. L'ex pescarese. Ciro Immobile. L'unità. Magari fossimo davvero europei. Sui diritti civili. L'Europa viaggia già a due velocità. E l'Italia è nel vagone di coda. Il 13 marzo. Il voto sul testamento biologico. Cappato indagato per la morte del DJ Fabo. La stampa di Torino. Inchiesta Consip. Nelle carte spunta il nome di Renzi. E poi la fotonotizia. Casinò. La fine dell'epoca d'oro. Messe in crisi dal boom della Zardo Online. Che attira i giocatori. Il caso di Aosta. In questo caso trattato. Dal quotidiano La Stampa. Il tempo di Roma. Il ballo del massone. A 25 anni. Dal blitz dell'EPM Cordova. Rosi Bindi sequestra gli elenchi. Degli iscritti all'elogio. Adesso tremano migliaia di fratelli. Lo sfogo ha il tempo. Di tre principali. Gran maestri. Poi Lazio micidiale. Un piede in finale. Poi un titolo di politica. Primaria unità. Ultima sfida Berlusconi. Il centrodestra. Riparte. Senza il Cavaliere. Libero. Pianisteo napoletano. I partenopei sono assenteisti. Ma pretendono più assunzioni. Assunzioni. Questo è il titolo principale di Libero che parla del solito vecchio vizio. E poi il volantino che imbarazza i democratici. Gratta gratta restano comunisti. E siamo al mattino di Napoli. In alto l'arresto di Romeo scuote la politica. E poi PD. La guerra sporca. Delle tessere. Buffera a Napoli. Pacchetti di iscrizioni prepagati. E accuse di infiltrazioni mafiose. Il manifesto. Giungla d'appalto. Questo è il titolo che parla proprio delle ultime vicende proprio trattate sui quotidiani oggi in edicola e anche dal manifesto. Come sempre con un titolo particolare. Poi avvenire che invece in primo piano mette la corsa al fine vita. Biotestamento in aula. Il 13 si scalda il dibattito. Bagnasco dice il bene dei bambini. E madre e padre. E poi Europa adesso reagisce. Chi vuole disfarti. Infine Consip e tessere PD. Due vulcani a Napoli. Siamo alla Gazzettino di Venezia. Nasce l'ospedale per gli aborti. Dopo il caso della donna respinta da 23 strutture. Un polo unico con gli otto ginecologi non obiettori. Di Padova e poi arrestato Romeo accuse a Paparenzi. Anche sul Gazzettino ritroviamo questa notizia che campeggia su tutti i giornali. Il secolo XIX Consip nelle carte anche Renzi e la sua fondazione 60.000 euro. Arrestato l'imprenditore Romeo. E poi pedofilia la donna che sfida. La curia romana. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Consip faro su Renzi padre. Il PM dice si faceva promettere soldi. La replica vergogna. Chiederò i danni. Poletti a sorpresa. Giro di vite. Sui voucher. Ora li usino solo le famiglie. La verità. Il sinemanette Romeo. Operava a livello politico più alto. Un pizzino dell'arrestato. Fa tremare. I due Renzi. Il quotidiano La Verità. Era l'ultimo giornale nazionale preso oggi in esame con i titoli più importanti dei quotidiani che troverete oggi in edicola. Allora possiamo ripartire dal quotidiano Il Centro in questo caso per andare a vedere le pagine interne del giornale. Partiamo ovviamente dai argomenti di carattere regionale. Ovviamente la notizia del giorno è la manifestazione a Roma. Ecco qui il titolo. Sisma e maltempo. L'Abruzzo in piazza. A Roma il grido d'aiuto di un territorio ferito. E poi in basso in corteo fino a Montecitorio da Brucchi a Di Primio a Pupillo. Dunque i sindaci rispettivamente di Teramo, Chieti e Lanciano in 1800 da piazza Venezia ai palazzi del governo. E cosa dicono i parlamentari, parlamentari abruzzesi, centro-sinistra e centro-destra? D'accordo per cambiare il testo. E poi in basso 90 giorni per la lista d'anni. Vertice domani tra il governatore D'Alfonso e i rappresentanti dei comuni. Dalla questione maltempo e terremoto a quella che riguarda la sanità, pianeta sanità, parte infatti la riforma delle ASL. Più qualità nelle cure, ospedali specializzati, via doppioni e sovrapposizioni, pubblici, gli esiti delle prestazioni. La regione rafforza anche il ruolo degli infermieri e delle altre professioni sanitarie. Parla il direttore della ASL di Pescara Mancini che dice pronti ad adeguarci. Siamo in rosso per 16 milioni, ho dubbi solo sui posti letto, un po' pochi, dice il manager dell'ASL pescarese. E poi in basso si parla invece di Valanghe, ecco la carta dei pericoli, vale solo per Gran Sasso e Prati di Tivo. Si parla ancora in quest'altra pagina del pianeta sanità, il numero dell'ASL Vasto Lanciano Chieti, con l'atto aziendale, assunzioni, concorsi e primariati. Poi parla invece il manager dell'ASL di Sulmona Avezzano L'Aquila, Tordera, che dice terremo conto delle indicazioni generali in base ai nostri obiettivi. E parla anche il manager dell'ASL di Teramo Fagnano che aggiunge disponibili a collaborare di più. E sempre restando alla sanità, a farmacie, pronta la graduatoria. Dopo cinque anni si chiude il concorso per le nuove sedi private. E' uscito, infatti, è stato pubblicato il bando della Regione. Questa pagina si parla di giustizia e politica. L'inchiesta che riguarda la Consib. Alfredo Romeo accusato di corruzione per i cantieri pubblici della Consib. Ovviamente abbiamo parlato con tutti i titoli sui giornali oggi in edicola di questa vicenda. Andiamo direttamente alle altre pagine che riguardano la cronaca regionale. Ecco qui la pagina che riguarda la tragedia di qualche mese fa a Berlino. Appello raccolto. La Germania si impegna per Fabrizia. Il portavoce della Merkel dice sì ai risarcimenti. La madre della giovane uccisa a Berlino dice è un bene che qualcosa si muova. Il governo tedesco, se si è data l'impressione di una mancanza di sensibilità, è deplorevole. Molte famiglie berlinesi hanno assistito i parenti. E poi, cambiando argomento, la max inchiesta della Procura dell'Aquila a Palti della Regione un architetto, il 32esimo indagato, Orsatti della soprintendenza Abruzzo, accusato di corruzione nell'ambito di un contributo per una iniziativa immobiliare. E siamo alle cronache delle province. Partiamo da Pescara, Antenne e San Silvestro, ripetitori mai spostati, indagati due dirigenti, nuova inchiesta, accusa di omissione per Flacco, dirigente della Regione, e Piselli della provincia. E poi, l'intervista, abbiamo perso la guerra, me ne vado da casa, da Andrea, l'ex finanziere a capo della protesta, dei residenti di San Silvestro. E poi ci spostiamo al centro di Pescara, i simboli della riviera, riapertura, guerino, trattativa in stallo, lavori ancora fermi, potrebbe slittare il rilancio dello storico gabbiano, annunciato nei giorni scorsi dal nuovo amministratore. E l'ex Eriberto, altro storico stabilimento di Pescara, rischia di finire all'asta, ma dopo nove anni di battaglie legali, la titolare è ancora fiduciosa. Aspetto, dice il Consiglio di Stato. Lo scontro sulla buona scuola, Fedeli critica le parole, ma non dà risposte reali. Torniamo alla visita del Ministro due giorni fa in Abruzzo. I nastrini rossi abruzzesi consegnano una lettera alla Ministra dell'Istruzione. Noi deportati, ma gli ebrei non c'entrano, ora fatti sulle assegnazioni provvisorie. E poi la protesta, l'8 marzo, festa della donna. Ci sarà lo sciopero di tutte le donne e il movimento, non una di meno, promuove una manifestazione in centro a Pescara. Parliamo della marineria abruzzese, pronta a manifestare, il Governo ci aiuti. La richiesta ad Alfonso deve intercedere con il Ministro. Presto gli armatori potrebbero scendere in piazza a Pescara. E poi sulla questione d'Iga, Sospiri Antonelli, consigliere regionale e capogruppo in Consiglio Comunale a Pescara di Forza Italia, dicono, basta bugie sulla diga. E poi, entro il 14 marzo, si parla dell'Urban Center, del premio Masciarelli, gli elaborati degli architetti pescaresi saranno resi noti. E poi la nomina con Franco Di Pasquale eletto al vertice di Ascom Abruzzo Pescara. Andiamo ancora avanti. Consigli medici in un libro, tutti i colpevoli delle mille allergie, il manuale di Verna, come convivere con una patologia che colpisce il 25% della popolazione. Questo è il libro del primario del reparto. E poi in basso la cronaca, si terranno oggi i funerali del 71enne investito a San Gabriele, l'addio a Gabriele Scurti, travolto da un'auto lunedì scorso a Bussi. Bussi, andiamo ancora avanti, proseguiamo, restiamo sempre a Pescara, in questo caso nell'area metropolitana, spostandoci nella vicina Francavilla al mare. Emergenza, Valle Anzuca, discariche abusive non stop. Francavilla, i dati della concessionaria Cosvega. Nel 2016 i contribuenti hanno speso circa 15 mila euro per contrastare l'attività degli inquinatori. E sempre a Francavilla, centropagina, sbarca Liddle Green, nel nuovo store aperto da questa mattina con 18 addetti. In basso a San Giovanni Teatino, il comune parte civile, nel processo sull'ex fonderia. Siamo a Montesilvano, la città vuole nuovi colori. Montesilvano si affida agli artisti dei murales. Il creativo Davide D'Angelo è stato selezionato dalla Commissione Cultura. E poi via Maresca, la città d'estate, al summit del turismo. Operatori convocati in municipio, balneatori e albergatori, hanno affrontato la questione dell'accoglienza ai migranti, ma anche le iniziative e gli eventi in programma per la nuova stagione balneare di Montesilvano. E l'Arpa di Rossi e i Terza Corsia al Baldoni si infittiscono infatti gli appuntamenti per il ventennale della nuova scuola comunale di musica. Siamo ancora alla seconda pagina dell'area metropolitana. Crap del gruppo Di Mario, sequestrata una casa a Montesilvano, il Tribunale di Roma blocca la vendita di 165 immobili riconducibili al costruttore di Pomezia, arrestato nel 2011. E poi, cambiando argomento, a spoltore si pensa al voto alle amministrative di Martile e Dirigenti, serve una coalizione, dicono dei moderati. Ancora a Montesilvano il pattinodromo cancellato, Cilli di Marco Sidimetta, mentre a Città Sant'Angelo Village c'è un casting per aspiranti, modelli in basso, solidarietà con i terremotati, angolani mobilitati per Norcia con il paese gemellato Nicolosi, raccolti fondi per progetti culturali. Vedete nella foto la consegna simbolica dell'assegno a Norcia da parte dei sindaci. In primo piano il sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi. Proseguiamo con la pagina di Penne Popoli e dell'Alta Var Pescara. Frane sulla penne Farindola, servono quasi 3 milioni, sopra luogo sulla strada provinciale, con focus sugli smottamenti a Colletrotta. E poi di spalla andiamo a Farindola, dove il sindaco Lacchetta lascia il Partito Democratico e dice deluso dopo Rigopiano. Ricorderete la tragedia del 18 gennaio scorso, proprio all'hotel Rigopiano di Farindola. Centropagina Castricone, ospedale Popoli penalizzata, le reazioni allo smantellamento del pronto soccorso. Sospiri, consigliere regionale di Forza Italia, dice la regione ignora la nostra proposta. E poi in basso, Torre dei Passeri, morto nell'incendio. Scusate, domani l'addio alle 15 funerali di Fernando Di Berardino, carbonizzato in casa. E poi a Scafa, appello per gli ex dell'Italcementi, la concessione esama. Il sindaco dice, ora si tenga conto dei disoccupati. Prima di andare a vedere insieme le pagine del centro dalle nostre province e dalle altre province, ci fermiamo per qualche attimo. Poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. In studio per la seconda parte di Mattino 6. Siamo alle pagine delle province del centro. Dopo aver visto le pagine relative a Pescara, siamo alla pagina della provincia di Chieti. Parte il processo in corte di assise, tribunale blindato per l'omicida di Vasto. Lanciano, il fornaio che ha ucciso Italo Delisa, rischia l'ergastolo, misure di sicurezza per contenere tv e fotografi. E poi si parla di università a Chieti, il rettore, per quanto riguarda l'elezione, in questo caso del nuovo rettore, Capasso, quinto candidato. I giudici del Tar, che lo rimettono nel CDA, lo elogiano, vittima di ritorsione. E poi Chieti, inchiesta su Ibellia, nelle intercettazioni, la parola padrino. E poi in basso, a Lanciano, per i gradoni rispondono 540 ditte. Villa delle Rose, a Lanciano gli avvisi di garanzia, non spaventano i costruttori. Siamo all'Aquila, indagine della finanza, cocaina a fiumi per il popolo della notte, indagate 17 persone, tra cui 8 componenti, della famiglia Goman, il PM contesta, 13 sospettati, l'associazione per delinquere. E poi, imprenditori e giovani, ecco il profilo dei consumatori della polvere bianca. In basso, ad Avezzano, trova mille euro e lì restituisce, Romeno che sistema i carrelli della spesa, rintraccia il proprietario, mentre a Sulmona, la salsa peligna, vola in Giappone, accordo con il gruppo Pingue per la vendita dei sughi tradizionali. Siamo alla pagina di Teramo, del centro, Università, arriva il corso di laurea di Economia in inglese, gestito con la Sapienza di Roma. Partirà dal prossimo anno accademico. E poi, ex rettorato, casa dello studente, ok, da parte dell'Ateneo. E poi, in basso, la dolce morte dell'olandese di Mosciano, Ugo Bassen, era innamorato della cittadina, dove trascorreva parte dell'anno, l'annuncio. Sui social, siamo arrivati alle pagine della cultura, degli spettacoli e dello sport, e dunque possiamo lasciare il centro per andare a vedere insieme le pagine dell'inserto Abruzzo, del messaggero, poi andremo a leggere insieme il quotidiano, la città. Nell'ultima parte, ovviamente, parleremo di sport, di calcio, del Pescara, ma non solo, anche di quello che sta accadendo all'Aquila con le dimissioni arrivate ieri del tecnico Massimo Morgia e dunque daremo uno sguardo anche a quelli che sono i titoli su questa vicenda, su quello che sta accadendo all'Aquila nella società Rosso-Bru. Allora, avevamo visto in precedenza la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, siamo alla seconda, sisma, neve e frane, parte da Teramo, la marcia dei diritti, al grido di rispetto per il territorio. Oggi, oltre 1.700 fra cittadini e amministratori a Roma per chiedere modifiche al decreto. L'emergenza maltempo ha aggiunto danni per 500 milioni a quelli provocati dal terremoto. Presenti tutti i comprensori esclusi dal cratere la Valle Aterno, però diserta. E poi il colloquio con Renzo Di Sabatino e il presidente della provincia di Teramo, le risposte che chiediamo per evitare lo spopolamento. E poi in basso si parla invece di sanità dell'ettetto e postiletto alle ASL 30 giorni per decidere entra nel vivo la riorganizzazione dei servizi in arrivo standard di qualità ed un dipartimento delle professioni. E siamo alla cronaca di Pescara dal messaggero vittime pescaresi nella truffa dei VIP. Un esperto, un esposto, scusate, apre un nuovo filone di indagini dopo l'arresto a Varese ed elementi dell'operazione. Spariti 6 milioni di euro i clienti dei promotori finanziari coinvolti chiamano in causa Banca Fideuram era a conoscenza di tutto e non ha avvertito. E poi imprenditore rovinato 6 anni all'usuraio accettò interessi del 240% per un prestito di 2.500 euro non aveva più accesso al credito ufficiale. E poi nuovo tribunale Tegola da 8 milioni per il comune con Tensioso Sapro Alessandrilla e Chiavaroli portano il conto al Ministero di Grazia e Giustizia. La grande vela e le luci esaltano il ponte nuovo lavori allo sprint conto alla rovescia a Pescara per l'inaugurazione dell'opera a maggio svincoli rotatori e piste ciclopedonali e parla poi l'ingegner Rossi che dice prevedo tanti ciclisti poi ieri Centro Senz'acqua a Pescara per i lavori dell'ACA in basso Europa e Sanzioni insorge invece la marineria pescatori in regione contro la legge 154 queste regole ci faranno fallire e chiesto un incontro con il Ministro proseguiamo siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara torniamo a parlare della Brioni con la grande fuga dei manager dopo le dimissioni di Gianluca Flore sesto amministratore delegato in 10 anni nubi sul futuro del colosso della moda uscite incentivate orario ridotto per i quasi mille dipendenti rimasti preoccupazioni per la mancata ripresa del mercato sulla questione di Brioni vediamo il punto della situazione nel servizio dei colleghi della nostra redazione di Penne la Brioni di Penne cambia ancora Gianluca Flore non sarà più l'amministratore delegato dell'azienda Flore arrivato in Brioni nel 2004 è stato sempre considerato l'uomo di punta del gruppo Caring la holding francese proprietaria di Brioni negli ultimi anni l'azienda ha vissuto uno dei momenti più bui dove in quasi 200 hanno lasciato attraverso una mobilità volontaria il posto di Flore momentaneamente sarà occupato da Jean-François Palou direttore manageriale del gruppo Caring ed è proprio questa decisione a preoccupare non poco il segretario CGL di Pescara Domenico Ronca La cosa è stata repentina e noi non siamo stati nemmeno informati noi non vogliamo pensare nulla però ci chiediamo per quale motivo questa azienda sfugge oramai da mesi al confronto con il sindacato noi abbiamo chiesto di sapere i dati di sapere come stanno le cose e se i progetti che abbiamo concordato insieme al tavolo ministeriale vanno ancora avanti o c'è un ripensamento l'azienda sfugge di colpo veniamo a sapere che l'amministratore delegato è stato si è tra virgolette dimesso e allora abbiamo immediatamente richiesto alla nostra segreteria nazionale e al vicepresidente dell'onorevole Lolli la riconvocazione del tavolo del MIS e che l'azienda ha disertato perché ci vengono a dire come stanno le cose questa è un'azienda che deve recuperare bisogna che recuperi un rapporto con i lavoratori e questo territorio di avere più rispetto dei lavoratori del territorio perché ultimamente non siamo soddisfatti di come stanno andando le cose tragedia per l'economia di questo territorio noi dobbiamo difendere la presenza di questa azienda in questo territorio con le vecchie o i denti non ci possiamo consentire che ci sia una qualche ipotesi di smandellamento di non interesse molta incertezza c'è anche tra i lavoratori così come dice Giancarlo delle Monache purtroppo in questi ultimi tempi il clima era teso molto teso pensavamo di aver trovato un po' di sollievo nell'incontro del 30 con l'amministratore che era venuto qui in azienda ma dopo il comunicato fatto ieri dal direttore delle Sorse Umane che annuncia l'uscita di Gianluca Flore dalla Kering abbiamo paura di cadere di nuovo nel baratro abbiamo avuto delle promesse che la parte produttiva che si è rotturato il lavoro comunque per due anni avrebbe mantenuto il posto di lavoro speriamo che questo venga mantenuto anche dal nuovo amministratore andiamo avanti sempre dalla pagina dell'area metropolitana di Pescara crack di Mario appartamento sequestrato a Montesilvano questo è il titolo dell'articolo di spalla e poi bussi via libera del ministero alla bonifica di due discariche andiamo in basso marketing e piano marittimo i balneatori pensano all'estate balneatori di Montesilvano e sempre a Montesilvano si parla della crisi nel centro-destra ai dissidenti non chiediamo posti ma in segreto si tratta vediamo nell'articolo un passo non abbiamo mai chiesto la testa di nessuno scrive Anthony Aliano il nostro coordinatore Carlo Tereo dell'Anderset non ha mai espresso alcuna volontà di far parte dell'esecutivo e semmai si è sempre posto a capo della rivoluzione culturale tanto attesa della città e noi abbiamo ascoltato proprio Anthony Aliano su quello che sta accadendo nel centro-destra a Montesilvano Aliano dopo le dimissioni dell'assessore Cilli nel centro-destra a Montesilvano e Maretta c'è fibrillazione si può parlare di crisi a questo punto oppure no? Guardi io non saprei se si può parlare o meno di crisi so soltanto che noi abbiamo semplicemente espresso la nostra volontà di voler rilanciare immediatamente l'amministrazione in forza dei prossimi due anni che rimangono da adesso alla fine del mandato il rilancio di un'amministrazione deve passare necessariamente da un programma concreto da un programma valido e dunque da esecutori capaci di saperlo porre in essere a questo punto dunque cosa potrà accadere? deve accadere semplicemente che il buonsenso dovrà portare ad una concertazione tra le parti se si ha interesse a rilanciare l'azione amministrativa del centro-destra che a suo tempo abbiamo promesso ai cittadini di Montesilvano che stanno ancora attendendo voi però restate critici su alcune decisioni del sindaco Maragno il programma va rivisto completamente il programma va eseguito vanno ripresi i punti che abbiamo proposto ai cittadini quando ci hanno conferito la fiducia fino ad oggi semplice amministrazione ordinaria tipica di un concordato di un fallimento da Montesilvano ci spostiamo all'Aquila sempre dalle pagine del messaggero Liris io candidato di Forza Italia ma solo se si giocherà a vincere il vice coordinatore regionale degli Azzurri rompe gli indugi possiamo battere chiunque e sulle primarie coalizione d'accordo tranne rifondazione questo ovviamente nel centro-sinistra e poi il movimento civico appello per l'Aquila che vogliamo discontinuità no attrifuoggi in basso un'area musicale nel nuovo parco del Castello presentato il progetto di riqualificazione finanziato dalla fondazione Carispac andiamo avanti ci spostiamo anzi restiamo sempre all'Aquila spaccio di droga la finanza sgomina il clan dei Goman 17 gli indagati per 13 dei quali è scattata la pesante accusa di associazione a delinquere e poi viabilità strisce blu tempi lunghi per attivare i pagamenti poi tribunale sul bar interno e scontro Gallucci Morelli e poi l'insediamento perché Majorano Antonio Majorano 63 anni è il nuovo questore di l'Aquila ieri nel corso del nostro telegiornale vi avevamo proposto un'intervista col neo questore dell'Aquila in basso l'Europa dei solisti aquilani restituisce l'anima alla città una primavera musicale lunga quasi 60 anni e poi exploit del brano Dunger scritto da Nelson Tordera si parla dei nuovi talenti musicali spostiamoci nella Marsica in Valle Peligna ferrovia gravi inadempienze regionali Rolandi della Filt CGL conferma i timori sull'abbandono della Marsica da parte di Trenitalia nonostante gli impegni a novembre si promise un potenziamento che ora si è trasformato in un deciso abbandono del comprensorio restiamo nella Marsica per la cronaca droga un arresto mentre un'anziana sventa il furto in casa e poi sulle piste pienone a Carnevale tanti gli incidenti nel comprensorio dell'Alto Sangro sul Mona il Pacifico riapre a Pasqua oggi cinema e psichiatria e sempre nella città Peligna si richieste la proroga alla Curia e poi Acqua Santa Croce è la regione che decide sulla sorgente prosegue la battaglia con la proprietà e poi invece Celano blitz e perquisizioni dopo gli allarmi dopo i furti portati a termine nella cittadina celanese blitz e perquisizioni da parte della Polizia siamo a Chieti modi da padrino linguaggio in codice e conti in Albania così i fratelli Gianni e Luciano Bellia erano ai vertici del gruppo criminale i complici si lamentavano più volte del loro atteggiamento autoritario si parla dell'inchiesta per truffa e poi invece omessa bonifica ex fonderia il comune parte civile siamo però in questo caso a San Giovanni Tiatino accuse al titolare della società proprietaria dell'area e poi giovani imprenditori della CNA un forum sugli incentivi mentre in basso strade a pezzi e zero interventi la provincia dimentica chieti il consigliere vitale va all'attacco tra frane pericoli e cantieri chiusi e poi la cronaca giudiziaria furti e raffica in chiesa condannato Capuzzi siamo alla pagina di Lanciano Vastortona Fabio la procura chiederà la massima pena oggi di Lello alle 10 sarà in aula per rispondere dell'accusa di omicidio volontario per aver assassinato il 21enne Italo Delisa per la difesa si tratta di un procedimento tutto in salita ha ammesso di aver agito per vendicare la morte della moglie e poi Lanciano più carabinieri contro le infiltrazioni malavitose ad Ortona invece arrivano i fondi per il nuovo Palasport siamo alla pagina di Teramo del messaggero Sisma altri 5 mesi per i sopralluoghi nelle case quasi 5.000 richieste sono rimaste ancora in stand-by nel complesso Ater 180 famiglie sfollate comunicazioni telefoniche per velocizzare e poi Augusto Ferrante Paninaro a 75 anni dice non mollare mai questa è la storia proposta dal messaggero e poi la nomina D'Alfonso il governatore della regione conferisce al consigliere regionale Giorgio Ignacio la delega alle attività commerciali del cratere e poi crack di Mario maxi sequestro ad ex dirigente Tercas il costruttore di Pomezia aveva beni immobili in Vibrata e sulla costa siamo alla pagina di Giulianova Roseto e Val Vibrata finalmente niente lacrime e sangue approvato dalla giunta di Giulianova il bilancio che non prevede aumenti dei servizi ed anzi ci saranno tagli alatari per le fasce più deboli confermati soldi per rendere sicure scuole ed ex tribunale e sarà rimessa a nuovo anche la facciata della De Amicis e dunque sull'approvazione del bilancio a Giulianova noi abbiamo ascoltato il primo cittadino Francesco Mastromauro è un bilancio che non apporta nessun taglio rispetto alle previsioni del 2016 che non aumenta le tariffe dei servizi a domanda individuale siano essi scuolabus refezione scolastica o quant'altro non prevede nessun tipo di aumento di gabelle nei confronti dei cittadini ma che anzi trova le risorse per finanziare anche il miglioramento sismico delle due scuole di Colleranesco e della Pagliaccetti di via Gramsci che ho chiuso il 2 febbraio scorso 2 milioni e 55 mila euro per la ulteriore sicurezza dei nostri ragazzi un bilancio che prevede anche fondi per la cultura ripristinando il contributo per il Museo d'Arte dello Splendore un bilancio che infine guarda anche al futuro prevedendo il servizio di parcheggi a pagamento che affideremo alla società in house Giulianova Patrimonio così come abbiamo fatto l'anno passato con il mercato ittico con grandi risultati questo è il servizio con l'intervista con le dichiarazioni del sindaco Mastromauro vediamo ancora titoli dalla pagina della provincia di Teramo ancora Giulianova cade nello stesso punto del marito si frattura la mano e poi per il memoriale torre a Giulianova arriverà Gianni Rivera la bandiera del Milan e poi Alba Adriatica bullismo in classe premiato il progetto a Martinsicuro mancano i fondi per il progetto sicurezza a Roseto degli Abruzzi avvistata Aquila nella riserva del Borsacchio siamo arrivati alle pagine dello sport ma prima di parlare di sport dobbiamo andare a vedere insieme invece le pagine del quotidiano la città avevamo visto in precedenza l'inizio del nostro appuntamento odierno con la nostra consiglia della segna stampa la prima pagina del quotidiano la città possiamo andare a vedere insieme lo faremo tra qualche istante le pagine interne partiamo dalla prima che riguarda l'Abruzzo inchiesta nuovo indagato nel filone Giuliese si tratta dell'architetto della soprintendenza Roberto Orsatti D'Alfonso indagato a penne per corruzione e poi post emergenza tavolo fra Enel e associazioni dei consumatori sul blackout in basso trasporti tua assume 24 giovani autisti di autobus e poi Giorgio D'Ignazio passa in maggioranza il governatore D'Alfonso nomina l'esponente del nuovo centrodestra consigliere delegato alle attività produttive del cratere tutti a Roma sindaci e cittadini in piazza contro il decreto oggi la grande manifestazione nella capitale per chiedere maggiore attenzione e una specificità teramana e poi la delibera prorogata fino a fine giugno l'esenzione ticket per il cratere parliamo di politica PD il caso Verne è solo un pretesto dietro lo scontro sulla vicepresidenza il duello verso la Camera con Ginobile e Sottanelli e poi in basso botta e risposta sul governo dell'emergenza tra il Movimento 5 Stelle ed il presidente della provincia di Terra Morenzo di Sabatino e poi siamo civici non siamo scemi i sottanelliani replicano duro a Minos segretario in scadenza interlocutore inadatto dunque ancora polemiche all'interno del partito democratico crack di Mario congelati beni di un ex dirigente Tercas dopo rinvia giudizio la guardia di finanza mette i sigilli a 165 immobili in tutta Italia Teramo compresa e poi farmacie graduatoria finale per 85 aperture lista definitiva inviata al ministero 16 sorgeranno in provincia di Teramo soprattutto lungo la costa e poi parlando di formazione è stato pubblicato il bando per i docenti dell'istituto tecnico agroalimentare siamo a Teramo il parcheggio del parco diventa a pagamento finita l'era dei furbetti della sosta gratuita d'ora in avanti vigileranno quattro addetti della Tercop e poi Corso San Giorgio riunione in municipio sulla variante del restyling e poi terremoto per completare le verifiche sismiche serviranno altri quattro cinque mesi la casa dello studente torna all'esame del senato il rettore D'Amico media nel giorno cruciale per il progetto residenziale da sette milioni e mezzo e poi siamo alla pagina della provincia un'altra valanga incombe sul campeggio piane del fiume l'esperto rivela che la neve in quota stavolta potrebbe arrivare ancora più a valle giallo di Tortoreto omicidio di Silvestre la famiglia vuole giustizia parla l'avvocato De Paulis un delitto perfetto speriamo di noi abbiamo fiducia negli inquirenti ricorderete la vicenda il 15 novembre scorso con il ritrovamento dei resti bruciati del pensionato Tortoretano e poi in basso cronaca l'adrinazione nelle scuole di Alba Adriatica svaliggiati distributori di bevande nei plessi di Villafiore e in via Giovanni ventitresimo siamo alla pagina di Giulianova Mosciano avanti con l'adeguamento da 2 milioni per scuola Pagliaccetti e Colleranesco la giunta di Giulianova approva il bilancio abbiamo ascoltato poc'anzi il primo cittadino Francesco Mastromauro e poi Rotary gli effetti della globalizzazione spiegati dall'esperto internazionale e poi in basso 68enne Giuliese perde la vita in un incidente sull'autostrada A13 Vincenzo Lamolinara ha tamponato un autocarro nei pressi di Bologna Ricorso al TAR contro le regole del Parco la disputa tra Bagnatori e Dente sui confini finisce davanti ai giudici siamo a Silvi mentre ancora nella cittadina adriatica è stato convocato il consiglio comunale sul piano regolatore in basso Roseto degli Abruzzi un ulivo a guardia della rotonda nord del Borsacchio mentre a Notaresco avvicendamento nella maggioranza Gramenzi prende il posto di Corradetti Siamo alla pagina della cultura possiamo arrivare direttamente allo sport per parlare del Teramo come sempre dalle pagine del quotidiano la città e se adesso il Teramo diventasse la mina vagante il diavolo riceverà in casa tre delle prime quattro di testa ma con l'organico che ha potrebbe sgambettare chiunque dunque si punta ad un calendario non difficilissimo almeno nelle prossime gare ma non in quella di domenica al Bonolis con il Venezia facciamo il punto proprio sulla situazione in casa Teramo con il servizio di Jacopo Forcella se l'avversario di certo non strappa sorrisi il calendario o meglio gli incroci di domenica prossima potrebbero essere un valido alleato nella rincorsa alla salvezza del Teramo chiaro che la premessa per la banda Ugolotti è quella di provare a fermare o quantomeno frenare la capolista Venezia anche perché la mano bisogna darsela per primo da soli ma è altrettanto evidente che il diavolo scenderà in campo al Bonolis domenica pomeriggio conoscendo già il risultato del Braglia del giorno prima dove in programma un Modena lumezzane da brividi con i canarini di Eziolino Capuano a quota 28 e per ora ancora un po' fuori dai radar biancorossi e con i lombardi che sull'altro fronte si ritrovano a meno uno dalla formazione Teramana da un capo all'altro della giornata il lunedì sera il Forlì al Tardini di Parma parte decisamente sfavorito e i gialloblu della Borzese ed Aversa hanno nelle corde una vittoria che lascerebbe i Romagnoli a 29 punti ma con una posizione di classifica decisamente più tranquilla rispetto all'undici di Ugolotti ma non è finita qui perché il Bassano ancora scottato dai sei gol rimediati a Pordenone e dall'esonero del tecnico Luca D'Angelo avrà voglia di riscatto in casa contro il Mantova il clou della zona calda però sarà il del Conero di Ancona con i Dorici appaiati col diavolo a quota 24 punti che riceveranno la vista del Fano Fanalino di Coda distante solo 4 lunghezze il Teramo si augura un pareggio che lascerebbe tutto invariato così come preferirebbe il segno 2 all'Elvia Recina di Macerata dove arriva il Gubbio che invece è in piena lotta per gli spareggi promozione tanti discorsi moltissimi incroci ma tutto passa dalla sfida del Bonolis che il Teramo dovrà affrontare sapendo di trovarsi di fronte una squadra che ha vinto 6 delle ultime 7 partite con in mezzo il pareggio interno proprio col Parma insomma un avversario non proprio agevole ma che sarà privo del portiere Facchine e del difensore centrale Malomo entrambi squalificati Ugo Lotti proprio dalla squalifica invece recupera imparato Spighi sarà a disposizione ma andrà in panchina modulo che dovrebbe essere confermato con Barbuti e far coppia con Sanzovini attenzione all'ex Stefano Moreo che giocherà esterno nel 4-3 sull'altro fronte in Marsura mentre al centro l'ex Bresciano Geico siamo le pagine dello sport del centro del messaggero partiamo dal centro dal Pescara verso Sandoria Pescara Zampano sogna il blitz Marazzi per vincere e poi sulla querella societaria Iannascoli dice Sebastiani mi faccia vedere i conti poi farò l'offerta e poi in basso ieri l'ultimo saluto di tanti ex Biancazzurria Derrico Alberti il direttore Gentiluomo scomparso due giorni fa per sette anni direttore sportivo del Pescara Alberti che si era stabilito lui originario di Bergamo proprio nel capoluogo adriatico ma torniamo a parlare di calcio giocato andando ad ascoltare proprio il difensore del Pescara Zampano Per Francesco Zampano quella di sabato a Genova a Marassi con la Sandoria non è una partita come tutte le altre hai giocato anche nella Sandoria sei genovese quindi giocherai a casa Ah beh quello sicuramente ho giocato fin quando ero piccolo dai pulcini fino alla primavera sono stati 12 anni 12-13 anni molto belli ero piccolo comunque si torno a casa a Genova e niente speriamo di fare la partita noi di ottenere la vittoria e sicuramente fare una grande partita Marassi è uno stadio che regala comunque emozioni Pescara 5 anni fa in quello stadio conquistò una promozione in Serie A si mi ricordo ha fatto pure il gol Caprari tipo e si si noi adesso settimana prepariamo bene la partita e cercheremo di comunque dare il massimo quello che non ci è riuscito contro il Chievo e di ripartire dal 5-0 comunque di Genova quindi speriamo bene veniamo da una sconfitta domenica contro il Chievo che niente stanno preparando bene la partita e sicuramente loro vorranno vincere perché comunque Marassi è uno stadio importante il tifo importante e vorranno fare bene anche per i tifosi quello che vorremmo fare pure noi e per le persone comunque che vorranno Marassi i tifosi del Pescara e niente speriamo di regalare una gioia anche ai tifosi lo dicevi anche tu prima non dovrete commettere gli errori commessi al Bente Godi con il Chievo sì sicuramente in settimana ci stiamo allenando bene e speriamo di fare risultato e parla il tecnico della formazione blucerchiata Marco Giampaolo che dice non mi fido del Pescara di Zeman il tecnico Giuliese della Sampdoria applaude il boemo e c'è questa intervista proprio a Giampaolo Giuliese Doc che ha lavorato ed è stato anche nel Pescara Beleni di Coppa Italia Juventus Napoli scontro totale poi vedete invece a centro pagina l'articolo sul derby di Coppa Italia di ieri sera all'Olimpico con la vittoria della Lazio sulla Roma per 2 a 0 Lega Pro Scacchioli ci crede Teramo non mollare ci sono 11 finali abbiamo ascoltato visto il servizio di Jacopo Forcella e poi Serie D il ribaltone Morgia lascia l'Aquila Battistini nuovo allenatore e poi Coppa Italia di eccellenza poker paterno macchia al tappeto paterno che ha battuto il macchia di Sernia con il risultato di 4 a 1 abbiamo esaurito le pagine dello sport del centro possiamo andare a vedere insieme quelle del messaggero partiamo sempre dal Pescara Gian Paolo mi aspetto un Pescara da battaglia ma la Sampdoria ha fame poi Zampano a Genova non hanno creduto in me e sabato voglio prendermi la rivincita abbiamo appena ascoltato il difensore Biancazzurro e poi basket di serie A2 si parla del Chieti Basket Golden Proger segno per regalare la salvezza a Chieti seconda pagina di sport l'Aquila ora è caos Morgia sbatte la porta ieri le dimissioni oggi l'ufficialità del nuovo tecnico che dovrebbe essere Pierfrancesco Battistini poi nel Teramo anti Venezia Petrella stop torna Spighi e poi la serie D Bartoli Cauto va stessa e prima viene la salvezza mentre da Tortora siamo ad Avezzano arriva un appello ai tifosi Biancoverdi in basso Pineto coronata la rincorsa di Amaolo ma la strada per la salvezza è ancora lunga e poi si parla di campionati abruzzesi in questo caso la promozione perché la Torre Alex Chieti per la Torre Alex Chieti il trionfo ad un passo Trevisan lavoro per un futuro ambizioso siamo così giunti al termine dopo aver letto anche le pagine dello sport del messaggero dell'appuntamento di oggi del 2 marzo con Mattino 6 a me non resta che ringraziarvi per averci seguito ringraziare Claudio Di Giacomo in regia per quanto riguarda l'informazione della nostra rete vi rimando alla prima edizione del TG6 come sempre oggi alle 14 grazie e buon proseguimento di giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti